Il Biondi di Lanciano è ancora una volta teatro di uno scontro a dir poco decisivo per le sorti degli estremi di classifica in eccellenza. Lanciano e Casalbordino lottano infatti rispettivamente per riaprire le corse playoff e salvezza, con la necessità dei tre punti, mentre le giornate a disposizione per centrare l'obiettivo sono sempre di meno. Al quattordicesimo la prima vera occasione della gara capita sul piede di Fragassi che conclude dall'out sinistro verso la porta di Torre. Il suo tiro viene però neutralizzato con un bel volo dall'estremo del Casalbordino. Risponde da fuori aria la squadra del patron Santoro con il mancino di Regner. La conclusione è forte e precisa, ma il giovanissimo Zappulla fa buona guardia e blocca in presa alta. Gli ospiti sollecitano ancora l'estremo Zappulla al ventiduesimo con una grande conclusione da fuori aria di Della Penna che costringe il portiere lancianese ad un bel volo per deviare la sfera al di sopra della traversa. L'occasionissima il Lanciano la trova al trentaduesimo con il taglio di Rei che ben innescato si ritrova davanti a Torre ma non riesce ad avere la freddezza necessaria per battere l'estremo ospite. Il Casalbordino recrimina dall'altro lato per un tocco in area di rigore che potrebbe avere gli estremi per la concessione del penalty, ma il signor Sciubba della sezione di Pescara sceglie di far giocare. Il Lanciano trova l'occasione per passare in vantaggio con un'azione tutta fatta di fraseggi che porta al centravanti Bocchio a concludere verso la porta casalese. La parata di Torre è difettosa e di Seni è sempre tempestivo nell'inserimento, ma la rete viene annullata dalla signorina alla Torre della sezione di Chieti per fuori gioco. Non passano nemmeno due minuti dal gol annullato al Lanciano che a trovare il vantaggio è invece il Casalbordino con un'azione di contropiede ben orchestrata dai propri giocatori offensivi. con Giuseppe Ciafardini, abile a dare una soccata vincente dopo essere rientrato dall'out di destra. Il tiro è imparabile per Zappulla e vale lo 0-1 dei giallorossi. Nel primo tempo non succede più nulla e l'avvio di ripresa vede subito il Casalbordino pericoloso. Siamo infatti al terzo minuto quando una lunga azione di contropiede, inizialmente molto ben orchestrata da Salguero in velocità ai danni di Scipioni, porta ad una conclusione verso la porta di Zappulla che si salva deviando in angolo. Ancora un contropiede per gli ospiti che sfiorano il raddoppio, inizialmente giostrando sull'out Mancino e poi portando la sfera dalle parti di Salguero che conclude e fa letteralmente la barba al palo alla destra di Zappulla. All'undicesimo minuto della ripresa va ancora vicinissimo allo 0-2 il Casalbordino con la conclusione di Grandis che approfitta di una bella azione nata sulla fascia destra ma non riesce ad inquadrare la porta del Lanciano. Il Casalbordino trova il meritato raddoppio sugli sviluppi di una serie di calci d'angolo con una bella sponda di testa che permette a Della Venna di inserirsi e di concludere un'azione continuata dei giallorossi. Il numero 8 ospite è Freddo e batte Zappulla per il centro dello 0-2. Ancora gli ospiti ad un nulla dal centro che varrebbe il Tris con l'azione innescata dal solito Regner che porta Salguero davanti a Zappulla. L'attaccante del Casalbordino temporeggia però e conclude con una sorta di scavetto che il portiere di casa blocca facilmente. Il Lanciano riapre la gara alla sua prima conclusione del secondo tempo in modo completamente inatteso con un tiro assolutamente spettacolare di Campagnol Bocchio dalla tre quarti di campo. Conclusione da fuori classe del numero 9 dei locali che supera in modo imparabile il portiere Torre e porta la gara sull'1-2. Il Casalbordino non lascia però spazio all'assalto finale dei Frentani e colpisce ancora sempre su azione di contropiede e sempre con un inserimento di Della Penna, abilissimo questa volta a scavalcare con un pallonetto Zappulla ed a firmare la sua doppietta per l'1-3. Gli ospiti controllano gli ultimi tentativi dei rossoneri e portano a casa tre punti fondamentali ottenendo la loro quinta vittoria di fila ed infiammando clamorosamente la lotta salvezza. Il Lanciano con la sconfitta di oggi dice sostanzialmente addio invece alle ultime speranze di giocare playoff. Con il direttore Dorazio dopo una pesante sconfitta del Lanciano tra le mura casalinghe. Direttore un commento a questa partita insomma che non vi ha visti migliorare anzi forse qualche passo indietro? Sicuramente c'è stato un passo indietro. È vero che incontravamo una squadra, c'è la classifica e bugiarda in quanto la società Casalbordino ha rinnovato tutta la rosa quindi è una squadra di tutto rispetto ma l'atteggiamento nostro è stato un atteggiamento tipo vittima anzi devo chiedere scusa come ho già detto all'altra emittente a tutti i tifosi del Lanciano e soprattutto agli ultra che ci hanno incitato fino alla fine. Un atteggiamento non bello quello visto da parte dei giocatori del Lanciano tante sbracciate, insomma poca convinzione. Da che cosa dipende? Dipende che noi abbiamo più volte abbiamo dimostrato questi atteggiamenti un po' passivi quindi significa che bisogna continuare a lavorare sotto questo aspetto e peccato perché la classifica nonostante il gap che c'è ci ha aspettato fino ad oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.